Ciao, siamo alla seconda serata con Lorenzo Flaierti, ospite d'onore di questo Piceno Film Cinema Festival. Lui è ormai un ospite della nostra cittadina. Sono proprio di casa oramai, no, un abitué proprio di San Benedetto, del Concordia e del Festival. E del Festival. Quest'anno io l'ho vista anche Grotta a Mare, che fa parte anche del... Sì, abbiamo offratto l'opera Surreal, che è stato, che ha avuto un grandissimo successo e speriamo di replicarlo anche il prossimo anno. E spero che il prossimo anno di nuovo sia qua. Ma nella maniera più assoluta, perché mi sto divertendo tantissimo. Ho visto cortometraggi straordinari, bellissimi, veramente pieni di messaggi fatti benissimo. Sono veramente delle opere concretamente cinematografiche. E poi si sta bene, si sta bene. Stasera abbiamo con noi anche Ricchi, Tognazzi, ieri abbiamo avuto Giorgio, Borghetti. Insomma, il parterre è sempre più ricco, c'è sempre un'atmosfera e una grande energia positiva che ci fa sognare, perché il cinema è sognare. Ok.